salve amici fratelli della congrega come va siete infelici lo so lo so molti problemi del quotidiano vi affliggono e poi ripiegate nella magnificazione secondo me deplorevole del cinema si magnificate la settima arte arte questo concetto astratto in cui vi scorporate vi proiettate affinché da un grande o piccolo schermo possiate ricevere quella sublimazione del vostro dramma esistenziale vedo sempre più ragazzi impegnarsi con un livello di frustrazione incredibile nel realizzare recensioni per ammantarsi di valore questi uomini e donne spesso giovanissimi quindi ribadisco ragazzi che ci tengono a fare bella figura a figurare benissimo gli occhi altrui e giocano di metafore a livello diciamo figurato ecco a proposito dell'essere metaforici sono ragazzi che ben figurano non vogliono essere sfigurati non vogliono rimediare diciamocela figure di merda e allora sono tutti così appianati livellati omologati in un buonismo di maniera con queste facce plastificate tutte uguali realizzate con lo stampino che ti porgono un sorrisino e poi terminano le loro disamine molto approfondite stracolme di luoghi comuni di frasi fatte da uomini e donne fintamente eruditi perché loro il cinema l'hanno capito l'hanno esperito vissuto solo a propria pelle stando con le gambe accavallate come sto io in questo momento a giudicare attraverso la loro ignoranza abissale si sale lo stress salgono aumentano le preoccupazioni allora non dobbiamo squilibrarci dobbiamo trovare i nostri equilibri mantenendoci ferrei a una morale a una disciplina a una maieutica che puzza anche di demagogia diciamo questi uomini e donne che non lo diverranno mai perché non hanno voglia di confrontarsi con gli attriti che il quotidiano ci pone con le delusioni allora è meglio ripeto magnificare qualcosa di intangibile per autoglorificarci e sopperire alle nostre carenze anche affettive emotive ecco sono tutti motivati guai a demotivarli inserire commenti inappropriati perché poi partono i loro attacchi spropositati vigliacamente sconsiderati perché tu sei stato sincero nell'esporre il tuo disaccordo ma ecco parti il contraddittorio ecco queste frasi fatte il contraddittorio ti vogliono contraddire e avere ragione imporre la loro presunzione improvvisamente il mio cervello si è ridestato dal torpore dopo tanto languore è risalito il mio amore e sale sempre di più di tutto cuore qui il mio calore il mio magico furore si terminano ecco mi ero interrotto si mi ero interrotto in ogni senso terminano le loro recensioni con le faccine sono stato bravo se volete inseriti dei commenti prima ascoltavo facciamo finta che questo programma radiofonico insopportabile ove morizio costanzo oramai in carta pecorito rincoglionito totalmente suonato diciamocela rimambito intervista a Rossella Brescia che sappiamo essere dalle sue testuali parole e dalle frasi pronunciate dalle sue labbra molto carnose un'attrice valorosa una modella dalle forme pericolose ma se volessimo addolcire ecco questa visione celestiale che lei con le sue gambe spaziali ci pone dinanzi potremmo dire è una donna graziosa e allora tutte queste persone che si ingraziano le simpatie a vicenda si ringraziano sono Rossella sono rimasta mentalmente firma all'età di 15 anni però diciamo che per via della mia avvenenza della mia bellezza mi sverginei 14 perché tutti i ragazzi volevano ficcarvelo nel culo e poi ho trovato un bambagione che mi ha sposato e praticamente faccio la mantenuta anche se lavoro certo lavoro duro 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 mi sono molto indurita molti ho indurito nel corso degli anni sono strafottente me ne fotto fotti te ne balla una società andata a puttane io non racconto mai balle sì fui diciamo avvolto avviluppato dalla melanconia più vorace più avvinghiante il mio spirito ripeto vorace ed esistenzialmente innatamente vivace ma dove le vado a trovare così le parole scaturiscono da quella che è la tetraggine che è un termine che si appaia con questi ragazzi che ci appaiono così brillanti così gioiosi sempre in gamba però mantengono la loro parte oscura dark che fa sempre trasgressivo figo e allora ecco la ragazza che non sa un cazzo di cinema ma neanche di cucina perché lì deve tornare e non può prendere me per i fornelli per i fornelli ecco che si esprime con una dialettica da laureata con lode tutto lodato tutto lordato tutto inzaccherato tutto succhiato questa ragazza che tanti ne ha leccati un po' leccata leziosa che vuole darci lezioni orali si io sono sempre stato uno scalmanato ora voglio imitarvi un bolognese doc di origine contro let tal dec ma chi è quel faloti quello soldito ma cosa parlo parla araba araba l'antique lingua sumera sumara ma l'hai visto quel film Asini che dice la biseo la biseo la biseo ora sto pensando che questi qua meriterebbero tanti pugni chi lui lì ma lui lì è buono solo a farsi le pugnette mezza calzette quello lì va segato dalla vita è rimasto inculato è un ungulato è un animale selvatico ma chi è Tarzan va arrestato lo devono internare ma va a lavorare mandi mio flessioni sono un uomo che flette il busto l'adolescente non guida mai il motorino booster ma non sono mai stato robusto eppur irrobustisco l'addome e mai m'addormo è un modo poetico per dire mai m'addormento il mio cervello mai assopito fu addormentato da queste persone dalla nascita poco sveglia e io tutta la mia vicenda balzana oserei dire bislacca cari sciocchi cari cocchi e nucleai sviscerai disaminai io recensì in maniera introspettiva la mia vita sfigata da uomo spettinato stimpiato da uomo rovinato povero disgraziato in bologna insanguinata dove ho sputtanato tutti i licei classici di ragazzi che vivevano di rivalità che si prendevano per il culo ragazzi che si suicidavano perché non uscivano a reggere all'affronto di una professoressa dico io tu mi stufi arrembante ma poco trombante quindi frustrata ma che di notte quando il marito andava a dormire guardava le frustate Sadomaso da vera casalingua e poi direste che non sono il choker io girovago gironzolo io sono una mina vagante sono un uomo peregrinante io mi darò al pellegrinaggio all'urda meciugore no mangerò un piatto di cicorie voi siete scorie voi siete uomini di poco core 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 quindi se tutti in coro mi vorrete voleste dare contro io strapperò le viscere dal mio corpo a livello intestinale perché non sono uomo ombelicale ma mi voglio dalle risate di voi poveri cafoni sbellicare le è piaciuto è così un pezzo improvvisato lo sto leggendo senza trucco senza inganno adesso e quell'altro qui sono il sito di campagna quante pazzicole che si ascolta quante fandonie la gente mette in giro delle voci cattive gente crudile malfidata sono dei vivi malfattori mi dicono che dovrei lavorare in una fattoria ma questi non hanno mai visto il film Animal Factory Factory non significa fattoria io non sono quel Mickey Rourke lì ma sono un uomo duro come Will and Defoe o forse sono sempre giovane e fuggirò via da questa spazzatura si lì c'è quel bidone dell'immondizia un grande film di Steve Buscemi oh miei scemi scemotti cretinetti siete dinanzi a me tutti dei nanetti e quando sei adolescente vogliono suggestionarti intendi dirti oh tu sei il nano di David Lynch non vedo non sento non parlo sono autistico perché non non mi hanno preso in quel film The Score The Score The Score non The Scorie con un grande Ed Norton thank you thank you Nick che sembra un po' Kaiser Sose no? lui è il diavolo praticamente non diavolo ma ne è cornuto cornificato non è molto difficile guadagnare un Oscar no? camminando così Kaiser Sose e Kevin Spacey no è venuta male con l'altro piede così premio Oscar difficile The Usal Suspects Brian Singh l'alivo è un alivo poi diventerà uno juniores e poi giocherà fra gli amatori perché con le sue amanti un bravo amatore però non non ce l'ha mai fatta come calciatore bellissimo bellissimo sì sono un uomo vigoroso rivigorito oserei dire invigoritosi e di tutto mio vigore riappaio qui nel mio splendore oh 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 miei handicapati miei poveri ritardati mentali minorati state sul divano ieri ci sono state le partite di calcio quando ha fatto a Juventus ha vinto a Juventus oh e io adesso vado a lavorare mi sono guadagnato la pagnotta oh non sono sposato non non tengo prole e sapete che vi dico stasera io quasi quasi vado con la mignotta perché io tengo la fatica e mi piace tanto Africa insomma presto ci saranno gli Oscar ma ancora seguite gli Oscar il presidente della Repubblica italiana perché la Repubblica italiana l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro perché noi del welfare noi proletari è a 50 anni già in pensione sul divano a scorreggiare e infamare i giovani i giovani come questi vanno infamati vanno tutti platealmente derisi umiliati e oserei dire anche internati prendeteli sotterrateli e non disotterriamo noi le asce di guerra vendicative no 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 noi non saremo più sepolti seppelliti da questa massa di ci sta come Costanzo di rincoglioniti dai e quando c'è voce vo e quando c'è voce vo eh ciao idioti